Oggi siamo qua su una mappa parkour insieme a un mio amico luca ciao luca di me siamo qui una mappa che si chiama the floor is lava quindi andiamo cioè senza indugiare senza abbiamo fatto tipo i primi livelli forse lui se non ricordo male tipo un po di tempo fa l'abbiamo lasciata perdita non abbiamo fatta più e adesso mi è rivenuta in mente ho detto why not mamma mia no perché sono tipo due versioni che però comunque non sono uguali c'è questa è the floor is lava e poi c'è l'altra che è the floor is water però non sono uguali e abbiamo fatto tipo i primi livelli se lo sbaglio non mi ricordo sinceramente o luca attento ma tu madre ah di qua eh vabbè è la vita la prima morte di aurora non si scurda non si scurda ok no pensavo dove andare direttamente in là non mi ricordavo ok ah ma pure ma se mo no si è ricaduto là sopra ma dai ok quel pezzo lo devo fare con calma perché se lo voglio fare veloce per andare poi al pezzo successivo sbaglio e non ha senso ma tu sei caduto scu come ho fatto no sono morta per andare all'indietro per prendere la rincorsa sto e vabbè raga luca non ci fate caso ma luca è demenziali ok 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 mi sento che ce la faccio però mi si sta a rompere la voce daie dove devo andare dove dove andare raga stavano troppo spedita e mi ha preso un attimino quell'anziettina che mi ha fatto sbagliare ok questo lo faccio questo mo lo faccio eh mo lo faccio easy mo lo faccio easy ok tu hai fatto direttamente il max jump allora proviamo mmm si ci abbiamo fatto ragazzi andiamo al livello 4 ok questo in realtà era facile ma non so perché ci ha messo così tanto tempo oh no oh no oh no oh no guarda luca come va spedito guardalo però i check point sono un po' più vicini no eh eh vabbè però mi devo proprio mettere precisa precisa prima di partire perché sto partendo un po' troppo un po' troppo a caso e non va bene perché voglio fare le cose velocemente e poi non riesco dai ma non mi gira bene c'è il personaggio la persona vabbè un po' di velocità qua ce la poteva mettere effetti eh allora secondo me perché devo partire tipo un po' così si ok qua ok no non mi ha saltato raga io non so se sia un problema mio però il personaggio ogni tanto non mi salta non so se è il controller che in effetti in effetti va un po' a cagare però ok non mi ricordo ma ci arrivo vado io vado io ok 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 no non mi ha saltato ma che fastidio seriamente è la vita che è dura però se sono ritardo io voglio fare tutto fastidio tutto di fila e poi muoio come una studia comunque ragazzi io voglio avvisare che di solito io e Luca le mappe non le finiamo mai a meno che non sono quelle default default però questa non è default e quindi potrebbe potrebbe esserci un bel problema Luca ti stava venire proprio addosso mi stava a far cadere ok oh mamma mia stava a cadere no Lu non mi vuole di questo ma ce l'ho fatto ok ok ti prego dai ce l'ho fatta le schere si allora io ragazzi non so se andare avanti con il video però in realtà vorrei aspettare Luca perché mi sembra più che giusto quindi no un taglio boh dipende quando magari sto sulla switch e non faccio tagli perché comunque parliamo sempre ma soltanto la sigla iniziale e finale quindi si metto poco poi poi dipendi dipendi perché cioè se poi ci sono tanti tagli oppure quelli magari dove parlo la devo taglia tanto cioè dove parlo tipo che magari faccio una top cioè tipo ho fatto una top fino a modo i miei giochi preferiti e la comunque ho dovuto editare tanto aspetta dove ah si si devi proprio cercare di andare il più più alto cioè più lato possibile almeno se scivoli però vai a finire qua vai a finire sulla cosa ci sta dopo aspetta ah devi saltare ecco devi saltare il più possibile bravo ah e devi arrivare e arriva proprio qua perfetto oh ragazzi l'abbiamo fatta dopo dieci anni uh aiuto vabbè in effetti aveva più senso quello che hai fatto tu eh mamma mia stavo arrivando lo stesso errore di prima come un imbecille ma devo arrivare ma devo arrivare ma dove devo andare ah no ma devo andare sul tronco mamma non mi aveva saltato bene che paura ok ma tu l'hai fatto ah non so che l'avessi già fatto ok ok dovete mandare sul tronchetto ok no ho lasciato da solo mamma mia ragazzi ok 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 no ho sbagliato ok eh che vuoi no dai ok perché mi scivola da sole non capisco è lo sciamo oh così è anche più easy grande luki ah ah ma ho capito vabbè ma se tu non me lo spieghi che non devo salire la non è che me lo sogno eh scusa però c'è mamma e vabbè ma il tronchicino e ne so ok mamma mia come yes tu rururutututururitur ok 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 è mamma mia come aspetta no non mi c'è arrivato allora aspetta non ci arriva non ci arrivo non so neanche quanti livelli siano sinceramente siamo all'8 si oh mamma ok come ci sei arrivato là come cavolo è fatto come ci si arriva lì allora voglio un attimino vedere perché ma ci sei arrivato da da questo qua più cioè più alto o da questo basso oh mio dio come cavolo hai fatto ma poi questo controller io le cose così non le riesco a fare perché non mi gira bene con la levetta ma no ma dai ragazzi penso che la cosa che vi ho detto prima sia che io e Luca non fidiamo mai le detran si avvererà tra poco probabilmente lasceremo perdere tra un po' mamma mia mamma mia che poi dai ma perché non mi gira bene con la levetta non riesco a fare più il secondo salto vai 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 no allora ragazzi noi ci proviamo altre due volte e poi lasciamo perdere andatelo a vedere l'altra parte il codice se volete provare sta mappa sta lì su ossia 9212 12289476 sembra il numero di telefono ma non lo è oppure potrebbe essere quello di Luca chi lo sa provate il numero di Luca è 9212 12289476 sono 12 numeri e stranamente non 10 ma perché Luca è pazzo eh nostra come si vedeva come si vedeva come l'ho scordata ah sì così io sono morta 30 volte e tu 24 eh allora Luca come faccio no no non ci voglio credere non ci voglio credere ero così tanto vicino a riuscirci c'è Luca c'è Luca abbandonato la tua isola no ma io ci voglio riusci in realtà non è che ci voglio riusci ma voglio almeno riprovare raga un'ultima volta niente ragazzi è stato bello vi ricordo che il numero della cioè vabbè il codice della mappa sta lì su quindi se volete provarla la potete provare se volete riuscire ad arrivare oltre il livello 8 sono contenta per voi se ci riuscite però noi non ci abbiamo fatto perché non siamo scemi e perché possiamo fermarci con questi episodi lasciate un mi piace commentate e iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto ciao a tutti